Nomura presenta Hero Light Game. 6 cuscinetti a sfera in acciaio inox. Anti-twister power roller. Frizione micrometrica. Archetto tubolare in alluminio. Bobina di scorta in graffite e rapporto di recupero 5 ad 1. Un vero concentrato di tecnologia applicata alla pesca in soli 144 grammi. Hero Light Game. L'ideale per il Trout Area è tutte le tecniche che richiedono leggerezza ad alte prestazioni.